ciao ragazzi io sono nicodine sono ritornato con una nuova sfida manchester united versus manchester city mi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi al canale perché mi aiuta tantissima condividete con i vostri amici andiamo ad aprire anche il pacchettino a fine video quindi vamanos allora iniziamo iniziamo da qui giocatori comunque che costano pochissimo come sempre cerco di fare una sfida quanto più marcata possibile meno spendiamo meglio è perché lo sapete tutti che dentro questi pacchi è difficile trovare qualcosa quindi non vale la pena spendere così tanti soldi e niente ok e questo è l'ultimo andiamo a ritirare il pacchetto zinco prime ma prima di tutto andiamo a vedere che cosa si nasconde qua dentro perché non l'avevo aperto ieri sera perché mi hanno dimenticato non è walk out non è bandierina ingo martinez non credo che farò profitto per comprare questo pacco no sicuramente no quindi non lo compro ok mo andiamo con il pacchetto della sfida bello svedese attiti kun no ibrahimovic ibracadabra nice diogo dalot ok buoni giocatori per le sfide austria australia vabbè questi li mettiamo sopra a vendere e tutti al club ragazzi per le prossime sfide io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo quanto più presto possibile con un'altra sfida ciao 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 ciao